Chiedono la messa in funzione degli ascensori di cui sono dotate le loro palazzine. Alcuni abitanti degli edifici popolari G e H di Fondaco Nuovo hanno segnalato alla nostra redazione il disagio vissuto a causa del mancato funzionamento degli stessi ascensori da alcuni condomini che purtroppo non godono di buona salute. Chiedono che qualcosa possa sbloccarsi al più presto. E' da tanto tempo che abito qui e non ha mai funzionato l'ascensore. Nessuno si è interessato. Io purtroppo ho problemi di salute, non posso manco salire le scale, a volte mi devo fermare perché mi fanno male le gambe, mi paralizzano perché ho questi problemi e non ce la faccio. Ci sono persone disabili che purtroppo pure anziani non ce la fanno a salire le scale e stanno in casa perché purtroppo hanno questi problemi. Sono qua dall'81-82 e non hanno funzionato mai questi ascensori. Purtroppo io prima avevo 20 anni, ora avevo 72 e sono dimorato ancora perché non ce l'ha fatto un cliente a una scale. Da quando mia mamma abita qui l'ascensore non è mai stato messo in uso. Abbiamo fatto richiesta più volte per averlo perché giustamente ci sono condomini adesso che hanno una certa età, non riescono più a salire anche al quinto piano. Indipendentemente dalle palazzine che abita pensione anziano o meno, sono comunque condomini che come ho sempre detto non sono condomini di serie C o di, pagano una retta quantificata a quello che è la possibilità dovuta al proprio reddito. Ma non per questo, pagando una retta minore non hanno il diritto di avere gli agili e le comodità che per legge comunque toccano. Mia mamma stessa è invalida e devo accompagnarla io a salire due rampe di scale. Quando qui proprio accanto a un ascensore potrei direttamente aprire ed entrare in casa con mia mamma e non mi è consentito. Fino a quando lei camminerà, avendo la grazia, ce la facciamo. Quando poi non cammina più, cosa devo mettere avvocati e cose varie per poter avere un diritto che di mia mamma mi sembra una cosa proprio assurda.